Oggi reagiremmo ai miei video privati Oppure quelli come lo views, visto che dei privati non ne ho tanti Cominciare subito, filtro, visibilità Privato, non in elenco, abbonati, con programmazione, bozza Tutti, tutti li mettiamo, applica Ah, qua abbiamo un po' di robette Allora, questo è un non in elenco Perché mi ricordo che non aveva fatto tante visualizzazioni Questa però è arte, questa ve la devo far vedere perché è letteralmente arte In poche parole ho unito signoresse con rap rumeno Però quel video ha preso il copyright Quindi meglio se non lo facciamo sentire Poi questo video che io mi ricordo Non so se voi lo sapete Ma quando avevo 900 iscritti Avevo fatto una challenge, una sfida Cioè che avrei pubblicato un video al giorno Fino a quando non avrei raggiunto i 1111 iscritti E quanti video ho pubblicato? 2 Il secondo video aveva fatto 60 views in un'ora E basta, mi è basta, è finito Però questo era figo La storia di un nus Annus Considera l'opzione di iscriverti È gratis E puoi sempre cambiare idea Io sono nuova E sono uno youtuber Che porta video di commentare E in generale di opinioni su degli argomenti di tendenza Opinioni su argomenti di tendenza Comunque intanto che andiamo avanti Volevo dirvi che io In tanti mi chiedete Porta Minecraft Porta gameplay Porta quello Porta quella In generale sono giochi Io porto giochi sul mio secondo canale Che non è mio Ma è con dei miei amici Che hanno pure loro dei canali youtube Ve li lascio tutti in descrizione Iscrivetevi al nostro canale insieme Perché li pubblicheremo video di gameplay Che volete tanto Cos'è e cosa ne penso di Fall Guys Eh, che cosa ne pensi nova di Fall Guys Che cosa ne pensi Adesso io ho notato una cosettina Che su un video vecchissimo del 2017 Nella descrizione C'è un Instagram Oh 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 Albert Mate Six Scritto benissimo Albert Mate Fanpage Albert Official Isola GF Love him Ma chi Reality Casale Casa Ma che cazzo è casale Follow Vediamo un po' di post Sono a 500 iscriviti No, è pazzesco PS Li ho nascosti Li metterò pubblici a 15.000 Era un'ispezione Ero un'ispezione elemento Perché ero fermo a 60 iscritti Vi dico solo una cosa Sono una Domani alle 12 Tutti sul canale 5 mega Dexter Dexter parte 1 Pazzesco 1200 views Con 9 views Con lì sopra 9 views Ma voi siete scemi? E volete una breve storia Su queste 1273 visualizzazioni Erano comprate Perché C'era su un sito Che comprava le views Un pacchetto gratuito Da 1000 visualizzazioni E io l'ho comprato C'è Non so veramente Come spiegare Grazie Meno 20 Tu 100 E meno 40 Tu 200 Su Instagram Per chi Per chi interessa Quindi per chi interessa Sono su Wattpad Mi chiamo AlbertMate Official E la farò Dei racconti Abbastanza strane Ha 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 Sempre 31 agosto 2017 Grazie del cuore Del sostegno Che mi state dando In quest'ultimo periodo Prima 80 like Ora 15 like In mezz'ora Pazzesco Grazie E in più Ma siamo anche Agli 80 iscritti Ne mancano 20 È il mio sogno Sono in live Interessante direi Plus totale 28 agosto Finora 8 Pazzesco Quando non sai che fare Come foto E ritrai le cose Raga Ma sto per registrare Una reaction Alla canzone Di iPalboy TV Nel frattempo Vi ringrazio Per i 100 follower E i 70 iscritti Grazie di Emoji Cuore Chi è contento Di 20 agosto Chi è contento Di abbandonare La piscina O il mare E tornare A scuola Penso Nessuno Ha 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 Comunque Mi avevano Acherato Ma si è risolto Così Mi avevano Acherato Ragazzi Però si è risolto Tutto Ragazzi Il video è stato Rimandato Dalle 15 alle 19 Può succedere Foto a caso Perché non ho niente Da fare Penso sempre Al futuro Questo è uno Dei miei Più grandi errori Non pensare al presente Con una foto Di un ventilatore New bike Madonna Che Che biker Panic Foto al bagno Sì Veramente Vusi Scrive Sei un cesso Mangiati La Pizza merda E la coca cola Orina Se questa foto Minchia Con max felicita Sì Arriva 5 mi piace Domani ci sarà Un video epico Che non posso spoilerare Io qui Non mi ricordo Che video facevo Ma qui leggo Un geometry dashboard È impossibile Comunque youtube Riattivami La monetizzazione